Questa è la Cascina Valenca, è gestita dalla mia famiglia dal 1974, da quando aveva acquistato mio nonno. Come sta l'Apertori? L'azienda è a conduzione familiare, siamo io, mio papà, che è il capo, due zii e quattro operai. Ha le sue difficoltà, è difficile a volte, ci sono dei momenti in cui senti il peso di gestire un'azienda, però non cambierei con nessun altro lavoro. Abbiamo un'uscita bassissima e gli animali sono sani, che è la cosa che più dà soddisfazione.